Ieri mi ha fatto molto piacere che Nicola Porro mi abbia scritto, dopo aver moderato l'intervista con Silvio Berlusconi, mi ha scritto un messaggio, questi ragazzi sono una magia, in un tempo come questo della politica avere ancora qualcuno che ha voglia di spendersi, di sacrificare qualcosa, però vuol dire che nulla è perduto, poi ci dobbiamo interrogare su come si faccia a farlo crescere ovviamente, ma nulla è perduto e quindi grazie per questa diciottesima edizione di Atreio, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie a tutti quelli che hanno preso parte ai nostri dibattiti, soprattutto a quelli che sono intervenuti stamattina perché raccontano questo, persone che vengono alla storia della destra, che poi hanno fatto scelte diverse, che oggi si interrogano su come si possa e si debba rimettere tutto insieme, perché noi vogliamo dire fine a questa diaspora presunta o reale della destra, vogliamo ridare un'altra una casa accogliente a tutti quelli che con noi condividono queste idee.